Il calcio sposa la solidarietà in una giornata dal sapore di eccezionalità e il sangue si tinge dei colori bianco-azzurro del Gela. Sulla scia di quello che da qualche anno lo slogan del club calcistico, Chemilitense 3D, la Fidas Adas locale e la formazione gelese sono scesi in campo per promuovere il nobile gesto della donazione del sangue. All'unità di raccolta di via degli appennini, giocatori, staff tecnico e dirigenziale si sono sottoposti al prelievo di sangue propedeutico alla donazione dimostrando grande sensibilità verso il prossimo. Soprattutto d'inverno con tante influenze, tante epidemie e virus la donazione si abbassa e allora c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di queste opere, di queste operazioni di sostegno, di sollecitare le persone a sostenere questi volontari, questi centri, queste persone che veramente hanno bisogno di sostegno di tutti. Se il calcio può servire ad una cosa importante come donare il sangue è giusto farlo. La società si è attivata con la Fidas appunto per fare questo prelievo e questa donazione se ci sarà importante e noi siamo fieri e orgogliosi di aver fatto un gesto del genere. Non si tratta solo di un atto di solidarietà e di civiltà, si mira anche ad educare alla prevenzione. Lo dice il presidente della Fidas Adas di Gela Enzo Emanuello. La società, la squadra, la dirigenza, il staff, tutti quanti si sono mostrati davvero sensibili a questa importante iniziativa, dimostrando di avere a cuore quelle che sono le sorti del prossimo. Donare sangue diventa un aspetto assolutamente di responsabilità della persona e il fatto che comunque il Gela l'abbia voluto fare con noi, con la Fidas Adas, per me mi riempie davvero d'orgoglio. Sono vero emozionato, è bella questa maglietta che sto stringendo tra le mani, il fatto che comunque ci sia il nome della Fidas Adas Gela sulla gloriosa casacca bianca-azzurra. È davvero un motivo d'orgoglio. Il fatto che comunque possa essere promozionata la donazione del sangue attraverso la vitalità, la gioia, il sorriso di questi giocatori, di questi calciatori, della loro giovane età e che comunque in ogni caso, come dicevo all'inizio, non pensano soltanto al gioco, non pensano soltanto al divertimento, ma hanno anche a cuore la solidarietà e soprattutto l'aspetto relativo a quello che è il gesto di responsabilità della donazione del sangue.